Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la congiuntivite batterica. La congiuntivite batterica è un'infiammazione della congiuntiva, la membrana sottile che riveste la superficie interna delle palpebre e la parte bianca dell'occhio. È causata da infezioni batteriche e può causare rossore, gonfiore, prurito e secrezioni purulente dall'occhio. Il trattamento della congiuntivite batterica solitamente coinvolge l'uso di antibiotici per combattere l'infezione. Ecco com'è solitamente sicura. Consultare un medico. Se si sospetta di avere una congiuntivite batterica o se si presentano sintomi come arrossamento degli occhi, secrezioni purulente, prurito a disagio, è importante consultare un medico, preferibilmente un oftalmologo. Il medico esaminerà gli occhi, stabilirà la diagnosi e prescriverà il trattamento appropriato. Igiene oculare. Mantenere una buona igiene oculare è fondamentale. È necessario evitare di strofinare gli occhi e di toccarli con le mani non pulite, poiché ciò potrebbe contribuire a diffondere l'infezione. Inoltre, è importante lavarsi frequentemente le mani, soprattutto prima e dopo il contatto con gli occhi o l'applicazione di medicamenti. Antibiotici. Il medico prescriverà colliri antibiotici o unguenti oftalmici contenenti antibiotici da applicare direttamente sugli occhi. È importante seguire attentamente le istruzioni del medico riguardo alla frequenza e alla durata dell'uso degli antibiotici. Compressa fredda. L'applicazione di una compressa fredda sugli occhi chiusi può alleviare il disagio e ridurre il gonfiore. Evitare il trucco. Durante il periodo di trattamento e finché i sintomi non sono scomparsi, è consigliabile evitare l'uso di trucco sugli occhi per prevenire la contaminazione e il peggioramento dei sintomi. Contatto con altre persone. È importante evitare il contatto ravvicinato con altre persone, specialmente se si tratta di un'infezione altamente contagiosa. Ad esempio, i bambini con congiuntivite batterica dovrebbero evitare la scuola o l'asilo fino a quando il medico non li autorizza a ritornare. Follow up. È essenziale completare l'intero corso di antibiotici prescritti dal medico, anche se i sintomi migliorano prima della fine del trattamento. Questo aiuta a prevenire la ricorrenza dell'infezione. La congiuntivite batterica di solito risponde bene al trattamento e i sintomi migliorano entro pochi giorni dall'inizio del trattamento antibiotico. Tuttavia, è importante seguire le indicazioni del medico e non interrompere il trattamento prima della scadenza. In caso di peggioramento dei sintomi o se non si risponde al trattamento, è necessario consultare nuovamente il medico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.